il beef tra gli artisti di rozzano e san siro sembra aver aggiunto alla sua storia un altro capitolo pochi giorni fa a rondo dopo aver noleggiato diversi sub di colore blu ha girato per le vie di milano insieme a molti ragazzi anch'essi vestiti dello stesso colore per rivalire il suo status all'interno della scena durante questo giro seguito da numerosi fan rondo ha deciso di iniziare una diretta instagram nella quale tra le varie cose ha voluto sottolineare come la città fosse blu ovvero sua all'interno di questa diretta rondo non ha perso l'occasione per attaccare nuovamente pachi dopo l'ennesima accusa nei suoi confronti di essere un ballerino e non un rapper l'artista di zona 7 allora ha risposto attaccando il rapper tirozzano per il suo aspetto fisico accusandolo con parole molto colorite di essere sovrappeso la risposta di pachi non è ancora arrivata ma a prendere le sue difese se così vogliamo dire è intervenuto shiva questo giovedì shiva infatti pubblicato un nuovo singolo su youtube un remix del brano red bars di cardi b che già dalle prime ore ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico poco dopo l'inizio della strofa che apre il brano shiva dice con chiaro riferimento al rondo e al colore che almeno in italia è ormai associato al rapper di zona 7 venerdì poi anche rondo ha pubblicato un nuovo singolo stordi all'interno della seconda strofa del pezzo il rapper di zona 7 e ancora qualcosa da dire probabilmente rivolgendosi sempre a pachi la prima barra che sembra dedicare al rapper di rozzano è continuando poi rivolgendosi sempre a pachi dice meglio un ballerino che il ciattone a marabacici cocco per la cocco sei no verdose risposta a un diss lanciato ormai svariati mesi fa all'interno della traccia bandito credete che il beef sia destinato a continuare secondo voi pachi risponderà a rondo o pensate che non gli darà ulteriore attenzione fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto e non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici ricordatevi anche di lasciare un like se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le uscite di tutti i prossimi video